Con l'approvazione del rendiconto consuntivo si ratifica anche la spesa sostenuta dall'amministratore senza preventiva delibera, Cassazione numero 27719 del 12 ottobre 2021. In mancanza di tabelle millesimali per la ripartizione di una determinata spesa, questa andrà ripartita in via provvisoria a titolo di accondo e salvo con guaglio, Cassazione numero 23128 del 29 luglio 2021. Il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato o la sua totale dismissione non consentono di posizionare tubature su parti dell'edificio nella disponibilità di altri condomini. Cassazione numero 27375 dell'8 ottobre 2021. Nel condominio minimo in ordine al rimborso delle spese anticipate si applica l'articolo 1134 codice civile solo se sussisse il requisito dell'urgenza. Cassazione civile, ordinanza 27106 del 6 ottobre 2021. Le spese per interventi la cui utilità riguardi una singola proprietà esclusiva non vanno ripartite tra i condomini. Cassazione numero 24166 dell'8 settembre 2021.